Musica Musica Studiamo il greco e il latino per leggere i testi greci e latini? Questa argomentazione è la terza in ordine di frequenza, secondo i miei modesti calcoli a spanne, argomentazione che viene impiegata dai colleghi e dalle colleghe che parlano dell'istruzione classica a chi deve fare questa scelta o semplicemente quando ne parlano con la cittadinanza, sulla stampa, sui media eccetera. Secondo questa terza argomentazione la finalità dello studio del greco e del latino sarebbe intrinseca, ovvero queste lingue verrebbero studiate per avere un accesso privilegiato alla materia letteraria, cioè al patrimonio letterario che ci è stato tramandato in lingua latina e in lingua greca. Quindi, secondo questa prima argomentazione, i testi sarebbero importanti, le letterature sarebbero importanti. La seconda argomentazione contenuta in questo pacchetto, diciamo, è che il nostro studio della lingua greca e latina ci permetterebbe un accesso autentico a questi testi, un accesso, diciamo, privilegiato rispetto a chi invece legga questi testi in traduzione. Vediamo allora queste due diverse argomentazioni e cerchiamo di analizzarle una alla volta. Dunque, il primo argomento è, ovvero quello della eccellenza della produzione letteraria greca e latina, della sua importanza nella vita di tutti noi e tutte noi, è anche nelle indicazioni nazionali del 2010. Leggo direttamente proprio da queste indicazioni. Questo è l'ultimo documento pubblicato, diciamo, che indirizza un po' la nostra didattica, la nostra scuola. Ecco, dunque, nelle indicazioni nazionali del 2010 si dice che un ragazzo o una ragazza che è stata esposta significativamente allo studio della lingua latina sa cogliere il valore fondamentale della classicità romana per la tradizione europea in termini di generi, figure dell'immaginario, autoritates, e sa individuare, attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. Un programma bellissimo che ci ritrae un ragazzo o una ragazza che, appunto, conoscendo approfonditamente i testi della tradizione latina, è più consapevole della vita che lo circonda e che la circonda sotto tanti aspetti. Ovviamente, cambiate ciò che è necessario cambiare e avrete un omologo ritratto per il greco. Questa, diciamo, affermazione è veramente condivisibile e io la condivido a pieno. Per evitare di fare un brodo tanto generico quanto insipido sulla cultura occidentale italiana, ammesso che esista, insomma, sono abbastanza agnostico sotto questo aspetto perché non credo che davvero sia facile individuare che cosa sia una cultura di una nazione o di un complesso di nazioni, di una parte, di un continente. Ecco, non lo so, però questo posso dire più facilmente che leggendo il greco e il latino, o meglio, leggendo le opere greche e le opere latine, sicuramente entriamo in contatto con delle forme letterarie che sono capostipiti di tradizioni letterarie lunghissime. Quindi, sapendo cogliere questi aspetti di continuità, noi veramente ci abbeveriamo, potremmo dire, alla fonte di tante, tante tradizioni letterarie. Per esempio, la poetica di Aristotele, che è appunto un testo scritto in greco, contiene la descrizione di che cosa sia la letteratura e praticamente anche un aspetto prescrittivo perché è stato un manuale di composizione letteraria davvero di lunghissima durata e di straordinaria efficacia. Pensiamo al fatto che nella poetica di Aristotele si pone, ad esempio, Edipo Re di Sofocle come tragedia perfetta e quindi immaginiamo quanta fortuna ha avuto, ad esempio, questa tragedia in tutti gli ambiti. È stata imitata, letta, parodiata, ricontestualizzata, ha dato anche ispirazione a elementi fondamentali della psicoanalisi. Insomma, è proprio un archetipo del tragico. Oppure pensiamo sempre a questa storia di avventura, leggendo questi due poemi, davvero abbiamo, possiamo dire, di avere sotto mano gli archetipi di migliaia, non so neanche quantificarle, opere successive, fino al Novecento, pensiamo a Joyce o nel Medioevo, pensiamo all'ispirazione che Dante trae dalla figura di Odissio e tanto altro. Ecco, per il mondo latino io mi sono segnato due cose. Per esempio, l'importanza di Tacito nella sua descrizione a tinte forti del potere, questo saggio storico noir un po' basato sui caratteri più oscuri. Oppure penso, ad esempio, al romanzo picaresco e la favola piccante di Apuleio, la sua capacità di intrecciare storia principale con storie secondarie, di questo racconto nel racconto, la cornice come elemento generativo della letteratura, eccetera. Oppure, magari andando più nel dettaglio, è difficile capire cosa sia la poesia pastorale e il fascino di questa poesia così particolare, e, diciamo, difficilmente comprensibile se non si tiene in considerazione Teocrito e Virgilio, diciamo, e quindi le origini di questo genere. Ecco, queste, così, le prime cose che mi sono venute in mente, ma ce ne sono veramente molto di più di così, pensiamo al comico di Plauto, di Aristofane, abbiamo veramente una enorme quantità di testi fondamentali per chi poi ha scritto letteratura, quindi veramente qualcosa di estremamente importante per chiunque di noi si interessi di letteratura, e spero quindi per tutti. Ecco, sotto un altro punto di vista, cito un bell'articolo del collega e amico Enrico Tanca, che si chiama Linea e guida per l'insegnamento del greco e del latino, dove il professor Tanca si sposta anche un po' più in là, si apre anche un po' rispetto all'importanza di queste letterature. Dicendo che la letteratura greca e latina, oltre ai suoi elementi, diciamo, originali, è stato poi un collante tra scrittori, scrittrici, lettori e lettrici di tanti luoghi e di tanti tempi diversi, una specie di valore globalizzante della cultura. Per esempio la lingua latina ha saputo assorbire in sé tanti stimoli che vengono dall'area germanica, celtica, nordafricana, così come per esempio il greco invece è stato in dialogo e ha, diciamo, rappresentato una lingua veicolare per tanti aspetti della cultura slavo-ortodossa, islamica e anche, soprattutto, forse uno dei più grandi meriti storici del greco è stato quello di rendere, di divulgare, ecco, il messaggio ebraico cristiano e di renderlo un messaggio per tutti, ecco, per tutte, proprio dell'area, una vera e propria opera di globalizzazione. Quindi, ecco, se vogliamo, è difficile, difficile, difficile negare il valore eccellente di queste produzioni letterarie, un valore veramente sul quale, insomma, interi podcast, non solo cinque minuti, sarebbero necessari per fare un po', anche solo un po' di luce. Il secondo argomento, invece, dice che questi testi eccellenti, queste detrazioni eccellente, possono essere letti con particolare profitto, quindi con maggior capacità di raccogliere il loro contenuto da chi abbia studiato il greco e il latino come lingue. Ecco, questo secondo argomento è più difficile da osservare perché, essenzialmente, siamo di fronte a una piccola, grande contraddizione, nel senso che, se io dico che la lingua francese mi è utile per approfondire la letteratura francese, io, ingenuamente, mi pongo come idea l'obiettivo di uno studioso, una studiosa che, amando Proust, voglia leggerlo in originale per coglierne delle sfumature che nel processo traduttivo sono andate perdute e quindi studi il francese, la lingua francese in modo da poter accedere a Proust in originale e quindi che si legga la recherche di Proust in francese o lo stesso si può dire per un amante di letteratura tedesca che voglia leggere Brecht in lingua originale o voglia leggere la montagna incantata in lingua originale e quindi studi il tedesco per poter accedere in lingua originale alla montagna incantata. Questa è l'idea che ci si pone, che io mi pongo almeno quando penso a chi usa le sue competenze linguistiche per andare a fondo di una letteratura che ama. Nel mio piccolo, io lo faccio per la lingua inglese, riesco a leggere in lingua originale quasi tutto quello che mi interessa e quindi ho la gioia di leggere anche solo Harry Potter o Percy Jackson in inglese ma anche, non so, Cormac McCarthy o Dickens e senza dubbio ho un livello di penetrazione in questa materia, diciamo, superiore a chi lo legga in lingua italiana. Di quanto superiore non so dire perché poi mi confronto con amici e amiche che non sanno l'inglese bene e che leggono in italiano e hanno più o meno le stesse nozioni che ho io su questi testi ma, insomma, qualcosina posso dire di avere colto più di quello che hanno colto loro. Ecco, tuttavia però per questo tipo di approccio diretto ai testi quindi per una lettura integrale della letteratura che ci interessa occorre una capacità di lettura della L2, diciamo, della lingua straniera particolarmente estesa cioè la capacità di leggere un'opera o amplissime parti di quest'opera in quella lingua. Noi però facciamo uno studio del latino e del greco di un tipo che difficilmente mi sembra porti a questo tipo di capacità cioè lo studio della lingua greca e latina che viene proposto ai nostri studenti e alle nostre studentesse è un tipo di studio cosiddetto intensivo cioè propone una lettura intensiva. Nel mondo anglosassone per dire si propone invece una lettura estensiva quindi c'è questo doppio approccio un approccio intensivo e un approccio estensivo quello che si fa nella scuola italiana è tendenzialmente un approccio intensivo. Vediamo che cos'è l'approccio intensivo è detto anche cognitivo perché praticamente nessun elemento linguistico è del tutto automatizzato cioè c'è bisogno di una riflessione linguistica quasi su ogni elemento è vero che diciamo alcune cose semplicissime a forza di diciamo a forza di anche fare uno studio intensivo vengono abbastanza automatizzate però non è detto è tipico l'esempio dell'insegnante che si lamenta del fatto che i suoi alunni e le sue alunne vadano a cercare sul vocabolario di latino anche parole trovate 10.000 volte come enim, autem e altri avverbi diciamo comuni tipico è il lamento degli insegnanti di greco e latino che dicono che i ragazzi e le ragazze appena iniziano la versione si tuffano a pesce sul vocabolario e infatti molti insegnanti vietano l'uso del vocabolario per i primi 15 minuti proprio perché vedono che la foga di trovare il lemma di trovare la parola esatta per dire è una foga insopprimibile nello studente e nella studentessa quindi l'approccio cognitivo non ha quasi niente di automatizzato cioè la mente deve sempre riflettere anzi la riflessione praticamente su ogni aspetto del testo è una finalità ed è anche ben vista e diciamo è anche proposta come una cosa virtuosa nella nostra scuola si controlla sul vocabolario ogni parola si mette in guardia contro degli delle parole che potrebbero sembrare di un significato ma ne hanno un altro tipo casa che in latino non vuol dire casa ma vuol dire capanna ecco per dire è uno spauracchio che si diciamo si pianta un po' nel cervello degli studenti e delle studentesse i quali le quali temono che ci sia una di gloss temono che ci siano dei lemmi ambigui anche laddove sembrerebbe diciamo abbastanza evidente il significato di una parola nelle interrogazioni si deve dar conto di ogni struttura questo è un genitivo questo è un ablativo questa frase è una concessiva questo è un genitivo assoluto questo è un participio congiunto insomma bisogna saper dar conto di qualsiasi di qualsiasi forma si trovi anzi più gli studenti e le studentesse sanno descrivere minuziosamente ogni elemento della versione del testo più questi hanno fatto un buon lavoro in ultima analisi si va anche a toccare territori di critica elevata si parla di retorica di usi retorici si chiedono le figure retoriche presenti nel testo addirittura nella metrica per le produzioni in poesia qualche aspetto magari filologico qualche arcaismo di alcune parole eccetera questa impostazione cognitiva che diciamo produce un approccio intensivo al testo è detta anche prussiana questo termine viene usato in senso leggermente dispregiativo soprattutto da chi è diciamo dell'approccio opposto della scuola opposta interessante vedere come la questa la teorizzazione di questo approccio ipercognitivo viene già dal padre del liceo prussiano von Humboldt qui cito una frase di von Humboldt che ho trovato in Ugolini un professor Rugolini alle origini del ginnasio un bel testo proprio per chi abbia curiosità di di approfondire la storia la nascita di questa scuola io però questa citazione a mia volta l'ho trovata in un interessantissimo lavoro scritto da un mio amico e collega Pietro Fiorini e che pubblicherò in forma di estratto e troverete il link nella descrizione dell'episodio è un lavoro questo di Pietro Fiorini che raccoglie tanti altri lavori e quindi che mi ha dato la possibilità di accedere direttamente a un campionamento di frasi di citazioni di punti di vista già da lui selezionati in maniera eccellente ecco quindi cito von humboldt e dice la funzione dello studio dei classici è piuttosto quella di costruire un fattore di straniamento rispetto alla lingua materna così da comprendere sul piano teorico filosofico che cosa sia veramente una lingua e quale sia il rapporto tra lingua e pensiero quindi secondo von humboldt proprio quando noi andiamo a leggere in questo approccio prussiano cognitivo intensivo un testo latino e quindi ragioniamo sulle strutture in maniera così profonda e formale abbiamo proprio il vantaggio di guardare in faccia confrontarci direttamente con un sistema logico teorico filosofico così diverso dalla nostra lingua madre da avere appunto un senso di straniamento ecco niente di più distante dall'idea di poter leggere i classici cioè questo discorso di von humboldt che però è ancora abbastanza vivo nella nostra didattica è proprio il contrario di quello che si fa quando si legge con piacere un testo di letteratura cioè quando io leggo faccio per dire il mio esempio così che mi abbassa al giusto livello quando io leggo Percy Jackson in inglese tutt'altro voglio che avere uno straniamento cioè voglio avere al contrario voglio avere una sensazione di naturalezza cioè voglio sentire la lingua l'americano di Rick Riordan con i modi di dire di un ragazzino di 12 anni e voglio proprio avere un aspetto immersivo che mi permetta di godere di questo testo la stessa cosa chiaramente non la fa chi ha un approccio formale alla lingua un approccio appunto straniante alla lingua questo questo discorso questo tipo di studio intensivo prussiano cognitivo della lingua sembra in contraddizione con ciò che dice la indicazione nazionale del 2010 riguardo appunto alle capacità linguistiche da maturare entro il quinquennio e dice infatti al termine del quinquennio lo studente conosce principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale integrata dalla lettura in tradizione in traduzione i testi fondamentali del patrimonio letterario classico quindi secondo il legislatore come indicazione perché non è obbligatoria ma noi dovremmo avere una didattica che permetta ai ragazzi e alle ragazze di conoscere attraverso la lettura diretta in lingua originale i testi antichi ecco la nostra didattica non fa nulla per mettere i ragazzi e le ragazze in condizione di leggere con piacere con fruizione in lingua originale i testi greci e latini per mia esperienza ecco circa 10-8 persone per ogni classe riescono a tradurre un brano di 10 righe in due ore in modo così positivo da testimoniare un'avvenuta comprensione del testo il resto solitamente non dà delle traduzioni se non delle rese meccaniche parola per parola per lo più con cose trovate sui vocabolari in modo fortuito rappezzate in qualche modo eccetera ok quando dico 8-10 ragazzi e ragazze vuol dire che rispetto ai 30 che sono entrati in primo anno ovvero vuol dire un terzo ecco una didattica che produce un terzo di risultati positivi va quantomeno contestualizzata e va quantomeno osservata con un'attenzione particolare se ci fosse anche qualcuno di questi 10 in grado di davvero poter leggere in originale anche solo un testo semplice come potrebbe essere Cornelio Nepote prendo la vita di Alcibiade di Cornelio Nepote che è bellissima e la leggo tutta come fosse un romanzo ecco se anche ci fosse qualche ragazzo o qualche ragazza con delle particolari qualità che gli le consentirebbero di leggere in originale Cornelio Nepote noi non abbiamo una didattica che lo aiuti o la aiuti a sviluppare questa capacità e vediamo l'altro approccio l'approccio estensivo un approccio anglosassone e da sempre più legato alla letteratura scientifica di tipo di linguistica quindi più legato al studio delle lingue contemporanee diciamo quindi più legato allo studio delle lingue moderne cito ecco beh insomma abbiamo tantissime testimonianze pensiamo addirittura che tra fine ottocento e metà novecento negli Stati Uniti e nel Regno Unito vengono prodotti una serie di libri di insegnamento del latino del greco chiamati readers cioè libri di lettura ancora oggi se ne trovano sul mercato A Greek Reader molto bello è uno dei lavori più recenti edito da Volcasni Carducci ma ce ne sono veramente migliaia se cercate Latin Reader Greek Reader trovate un sacco di testi che proprio presentano che cosa dei testi di difficoltà graduata di cui il ragazzo e la ragazza deve cercare prima di leggere il testo di conoscere la maggior parte delle parole e delle forme sintattiche quindi si cerca di automatizzare la maggior parte di conoscenze necessarie per decifrare il testo in modo che la lettura del testo possa essere fluida e ampia oggi c'è un articolo bello su questo aspetto che si chiama di Wegenhardt che si chiama Better Reading Through Science una migliore capacità di lettura attraverso la scienza dove capacità di lettura si intende del latino e la scienza si intende la linguistica e osserva ecco il complesso il complesso complesso di abilità necessarie per leggere un testo si parla soprattutto di conoscenza del lessico che dovrebbe essere superiore all'ottanta novanta per cento cioè dovremmo già conoscere almeno il 90 per cento delle parole di un testo per comprenderlo e poi aspettative capacità predittiva riconoscimento immediato delle parole insomma tutta una serie di strategie che sono già presenti nella nella studio ecco di come si insegnano le lingue straniere ma Wegenhardt lo traduce in diciamo lo traduce per chi insegna latino questo approccio estensivo permetterebbe sotto un certo aspetto di leggere vaste porzioni di testo vaste porzioni di testo senza appunto questo incredibile affanno cognitivo perché appunto tante tante parti sono state automatizzate tante conoscenze sono state automatizzate la critica che si muove a questo approccio estensivo è che è un siccome è naturale cioè diciamo segue dei cicli naturali è estremamente lento per cui se noi volessimo produrre proporre alla classe dei testi sempre al loro livello di comprensione immediata dovremmo forse accontentarci di arrivare a leggere dei semplici testi latini appunto citavo prima Cornelio Nepote potrebbe essere un proprio una specie di punto di riferimento cioè se noi vogliamo che i ragazzi e le ragazze per più del 30% della classe è vero diciamo per il 70% della classe leggano a prima vista una pagina di latino e ne colgano i contenuti ecco dovremmo accontentarci di arrivare alla fine del quinquennio a testi molto più semplici rispetto a quelli che proponiamo qualche giorno fa è uscita la maturità un testo di Seneca per chi conosce il latino un testo semplicissimo ecco per chi lo ha studiato con l'approccio cognitivo della nostra scuola un testo difficile tantissimi e tantissime ragazzi e ragazze della mia scuola non hanno capito il contenuto del testo secondo me appunto questo 10 su 10 ragazzi per classe e ragazze è una prospettiva anche generosa se avessimo studiato latino per 5 anni con l'approccio diciamo estensivo difficilmente saremmo riusciti a comprenderlo a prima vista proprio perché per comprendere così bene il latino da poterlo leggere a prima vista dobbiamo metterci tanto tempo perché nessuno fa sconti e insomma nonostante vengano usate migliaia di ore è difficile arrivare a leggere Seneca a prima vista dopo soli 4 anni di latino 5 anni di latino ecco quindi diciamo è vero che ci sarebbe un approccio didattico più adatto in direzione di una lettura estensiva di una lettura ampia del patrimonio letterario ma non è detto che potremmo raggiungere la stessa difficoltà di autori che oggi si propone invece agli studenti e le studentesse concludendo dunque e tornando al nostro argomento iniziale è vero che il patrimonio letterario greco e latino è un grande valore è vero secondo me ovviamente secondo quel poco che ho argomentato è vero che il ministero ci suggerisce questa cioè di saper leggere e di di entrare in contatto con questo patrimonio come finalità più alta dell'istruzione latina e greca quindi è vero che i testi greci e latini sono di grande valore è vero che il ministero ci suggerisce la lettura dei testi greci e latini come grande finalità non è vero però che l'insegnamento che noi impartiamo di greco e di latino dal punto di vista linguistico mette i ragazzi e le ragazze in condizioni di leggere porzioni adeguate di latino e di greco così adeguate da farsi un'idea diciamo della letteratura sono senza dubbio cose utili quelle che si insegnano con questo approccio intensivo ma sono più che altro utili a riflettere sullo stile sulla retorica e sul concetto filosofico della lingua come viene espressa è vero che la maggior parte degli studenti e delle studentesse del liceo classico con questo tipo di didattica non sa leggere in maniera efficace il greco e il latino stamattina io ho fatto la prova suppletiva di sono stato sorvegliante la prova suppletiva di francese della mia scuola ecco devo dire che se alla fine di cinque anni di studio di una lingua moderna si desse un esame in cui per sei ore si affronta una lettura di dieci righe sembrerebbe un livello piuttosto facile da raggiungere ma invece in latino questo non è affatto facile perché leggere dieci righe di Seneca in sei ore ci sono anche le domande a cui rispondere eccetera ma diciamo in quattro ore non è un obiettivo raggiunto quindi è vero che il greco e il latino hanno un patrimonio letterario stupendo e fondamentale è vero che questa è l'idea del ministero quindi potrebbe essere effettivamente che abbiamo trovato finalmente la nostra finalità ma non è vero che il tipo di insegnamento linguistico che proponiamo va in questa direzione ecco quindi se vogliamo tirare le somme direi che se la finalità sono le letterature considerato l'enorme monteore che gli studenti e le studentesse passano a studiare la lingua perché un enorme monteore converrebbe o provare a cambiare impostazione di didattica per andare verso una fruizione diretta dei testi un po' più agile oppure e qua so che già sento il rumore di vesti stracciate nell'uditorio oppure accettare il fatto che le lingue come le studiamo noi sono troppo difficili per farci accedere al patrimonio letterario e quindi accettare che il patrimonio letterario vada letto in traduzione cioè quelle migliaia di ore destinate allo studio della lingua potrebbero essere benissimo impiegate per leggere in traduzione tantissime opere greche e latine voglio dire leggere integralmente l'Iliade l'Odissea l'Eneide qualche dialogo di Platone un nuovo testamento qualche dialogo di Cicerone trattato di Seneca dialogo di Seneca e la poesia di Saf di Elceo di Orazio dovrebbe essere una lettura ampia cioè che ci nutra leggere le metamorfosi di Ovidio dovrebbe essere una lettura fatta integralmente che ci appassioni che ci nutra insomma non dovrebbe essere una lettura relegata a poche decine diversi poche ventine di paragrafi quindi io dico se l'importante non sono sicuro che l'importante siano le letterature ma se l'importante sono le letterature e se il nostro studio linguistico non ci permette di decifrare abbastanza bene la lingua per poter accedere a queste letterature una delle idee potrebbe essere quella di lasciar stare l'insegnamento linguistico e accettare di leggere grandissime quantità con grande approfondimento di letterature antiche in traduzione italiana è chiaro questo è un po' una provocazione perché perché nessuno è di questa di questo avviso quindi chiaramente evidentemente non posso essere l'unico che ha ragione ecco ci saranno tanti altri motivi che io non vedo non so non so capire intercettare oppure semplicemente l'insieme di tutte le argomentazioni così una sull'altra una agganciata all'altra fa sì che siano tante le argomentazioni magari non fortissime ma abbastanza deboli che nel complesso creano una sensazione di forza però a guardarle una per una parrebbe che se la lingua latina e greca non sono non sono provate come strumenti per migliorare la facoltà logica se si hanno una ricaduta sull'italiano ma non possiamo studiarle per studiare l'italiano allora studiamo l'italiano e se non servono per leggere i testi greci e latini ci si domanderebbe un po' a cosa servono ecco altre cose invece sono chiaramente confermate dalla mia osservazione cioè leggere i testi greci e latini è di straordinaria importanza allora per non fare come chi appunto per buttare via una cosa che non gli piace buttare via tutto secondo me è un peccato che in un liceo come liceo scientifico non vengano letti tanti testi di letteratura greca in lingua italiana o è molto è un grandissimo peccato che in un liceo come il liceo delle scienze applicate non visto che non si fa latino non venga letto nulla di letteratura latina perché chiaramente sarebbe invece utilissimo o ancora di più che in un liceo linguistico dove si studia solo per un biennio la lingua latina e poi si lascia stare non si affrontano le letterature mi sembra assurdo che chi va a fare delle letterature europee il centro della sua formazione non legga Virgilio e non legga Omero non legga Orazio e Cicerone ecco per concludere con un po' di veleno dico che questa mia osservazione è così impopolare che a dire il vero io non conosco neanche molti colleghi e colleghe che pure sanno bene greco e latino abituati a leggere estensivamente opere greche e latine a me non capita quasi mai di sentire anche solo per sentito dire di un collega o una collega che insegni latino o greco che per suo piacere perché ama questa lingua alla quale ha dedicato la sua vita si tenga sul comodino Virgilio e prima di dormire legga un canto della delle neide ecco non mi risulta è molto più facile che costoro e costore leggano non si dice costore leggano critica sulla critica letteraria libri di storia libri di società di cultura magari legate all'antichità ma che ci siano persone che conoscendo il greco sfruttino finalmente questa loro capacità per leggere Euripide in greco e leggere per il loro piacere Platone francamente non ne conosco quindi non è soltanto un discorso relativo a come noi insegniamo la lingua ai ragazzi e le ragazze ma anche proprio come noi insegnanti concepiamo la lingua queste persone che potrebbero usare le loro conoscenze linguistiche per finalmente accedere al vivo fonte della letteratura greca e latina non lo fanno perché è perché proprio non è parte del nostro sistema culturale bene questo ho detto allora troviamo in trovate nella descrizione dell'episodio i link ai lavori che ho citato quindi i lavori di Wegenhardt sulla sulla lettura aggiornata metodi aggiornati lettura estensiva il succitato articolo di Enrico Tanca e l'estratto di Pietro Fiorini e un collegamento diciamo alle indicazioni nazionali vi ringrazio se questo podcast vi è piaciuto magari mettete una valutazione positiva dove lo avete ascoltato o anche semplicemente parlatene a un amico amica collega o se state facendo la scelta della scuola per i vostri figli e le vostre figlie a un genitore magari a una genitrice e in questo modo potremmo anche avere più persone e se avete qualche domanda a questione scrivetemi così ampliamo il dibattito vi ringrazio e vi auguro una buona settimana alla volta prossima rosa 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 un podcast di questioni sulle lingue classiche preparato e raccontato da Alessandro Conti rosa 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 Grazie per la visione!